A fianco del Duomo c'è il chiostro del XII secolo. Il Duomo sviluppa quasi 200 metri e dà 228 colonne gemellate in granito o marmo, tutte decorate o scolpite. Pur con il traffico turistico si percepiscono il silenzio, la pace e la spiritualità che aveva il luogo. A fianco del Duomo 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 A fianco del Duomo